... Allora? Ti piace il Texas? Altre unghiette se non stai ferma. Perché lo stai facendo? Perché se non le infilzi non sanguinano. E se non sanguinano non possiamo dar da mangiare. Ah no, no scema. Perché questo chiasso avete interrotto il mio riposino? Spero che almeno vi siate comportati bene. Dov'è Junior? Stai rastrellando. Ah, è quello che dici sempre. Rastrellando. Il che vuol dire che non li avete ancora presi tutti. Proprio come l'altra volta. Vi prego. Che cosa vi abbiamo fatto? Non potete smetterla. Meglio che tu stia zitta o comincerò dalla lingua. Sta buono. Non fare arrabbiare la mamma. Ho portato a casa il bacon, mamma. Forza, Dex. Dammi una mano. Aiutami a trascinare. Togli quella trapola. Belle scarpe. All right now. Mi raccomando, non gli fare lividi. Scusate. È ben messo, eh? Sì, direi proprio di sì. Abbiamo della carne nera in arrivo, mamma. Junior dovrebbe essere qui a momenti. Speriamo, figlio mio. Sai, sta perdendo un po' la mano ultimamente. Ma gli ho portato un bel regalo. Un regalo che lo terrà in forma, sì, signore. L'ultimo che gli hai portato gli è piaciuto. Quell'aggeggio elettronico. Certo che gli è piaciuto. Questo è il progresso, ragazzo. La tecnologia è nostra amica. Potrebbe anche imparare qualcosa. Ho ragione, mamma. Che ne pensi della nostra signorina? Non lo so. Sembra una che potrebbe strillare molto con noi due, Eddie. Vorrei essere chiamato Dex. Te l'ho detto tante volte. Mi dispiace, ragazzo. Accidenti se mi dispiace. Senti, che ne diresti di farci l'onore di fotterti quella puttana? Perché no? Ehi, Tic. Questo è ancora vivo. Yippie yippie. Ehi, se ti necessite qualcosa di più. Ehi, se ti necessite qualcosa di più. Ehi, se ti necessite qualcosa di più. Beh, vado a prendere il regalo per giugno. Tex, vieni a darmi una mano. Quella cosa è così pesante. Don't even think of leaving. Not before dinner. Not before dinner.